Ciao ragazzuole e ragazzuole, benvenuti nel nuovo video. Oggi provo a fare una sorpresa a una mia amica. Allora, adesso fra alle 5, che sono le 44 e 47, andrò da questa mia amica e vi farò una piccola sorpresa. La saluterò, come vedete, non già pronta con la mascherina e adesso devo andare, però comunque... Quella è la faccenda. Allora, sono sicura che o sta facendo i compiti o sta portando a YouTube e si è fatto almeno su mio canale, quindi lei lo sa. Chi è? È alta, piccole informazioni, è alta e di fianco c'è un dottore. Quindi se si riconosce, fa fuori dalla porta che io vado alle 5, la vado a tornare. Bene, sono piccole informazioni e adesso ciao a Elip. Ricordatevi, se vi piace questa roba, ora raga, adesso è tutta scompigliata, però... Io l'avevo fatta venire tutta con la coda qua in alto e doggio a pittire un pochino queste storie per strade. Faccio un video dove vi insegno come si fa. Bene, ciao!